In contrasto col padre Fiodor per ragioni di eredità, Dimitri Karamazov è convocato dalla Grushenka, verso la quale nutre subito un sentimento d'amore. Dimitri sa che anche il padre ama la donna e lo colpisce a sangue alla presenza dei fratelli. Katierina Ivanovna, fidanzata di Dimitri, e alla quale Dimitri Carpì 3000 rubli, è amata anche da Ivani. Alla presenza di Alyosha vi sarà un dialogo, durante il quale Ivan decide di partire perché avverte la maledizione che si addenserà sui suoi fratelli. Uscito dalla casa, Ivan ha un lungo colloquio con il fratello Alyosha, nel quale rivela il purgatorio spirituale in cui si agita la sua coscienza infelice. Dimitri apprende da Smerdiakov che suo padre spera sempre in una visita particolare di Grushenka. L'infido servitore gli svela anche il segnale con cui dovrà avvertire il vecchio dell'arrivo della donna. Smerdiakov riferisce a Ivan il contenuto del colloquio avuto con Dimitri. Questi conferma la sua decisione di andare a Mosca. Prima però fa capire a Smerdiakov che è venuto il momento di agire. Qualche momento dopo il vecchio padre pregherà a Ivan di vendere al mercante Liagavi un bosco di sua proprietà. Intanto al monastero il padre Zassima è morto. Alyosha a sua volta, convinto dal novizio Rakitin, va a far visita a Grushenka. La purezza spirituale del ragazzo apre l'animo della donna. Contradicendo a quanto aveva promesso a Dimitri, lei ha lasciato la casa di Kuzma Kuzmich ed è ritornata sui suoi passi perché attende una grande notizia. Il suo primo amore, l'uomo che fu all'origine di tutta la sua sorte, è tornato. Si incontreranno presto. La donna è combattuta tra il rancore e il risorgente affetto. Nel frattempo la notizia attesa arriva e Grushenka si congeda da Alyosha affidandogli il suo saluto per Dimitri con la richiesta del perdono. Il vecchio aspetta la Grushenka e invece appare nella notte Dimitri che è sorpreso dal servo Grigori. Dimitri lo colpisce violentamente con un pestello e lo lascia a terra convinto di averlo ucciso. Poi corre all'osteria di Mokroje dove la Grushenka parla con il suo antico amore e mostra la sua delusione nell'averlo ritrovato stanco e avido. Dimitri appare sconvolto e geloso. Si gioca a carte e il polacco vince rapidamente 200 rubli a Dimitri. Grushenka non tarda a capire che il suo ex amico è tornato solo col proposito di estorcerle del denaro. Lo insulta e lo caccia via come si fa con un insetto ignobile. I due, lei e Dimitri, possono finalmente vivere un momento d'amore che è interrotto dall'improvviso arrivo di un commissario di polizia che accusa Dimitri dell'assassinio di Fyodor Pavlovich Karamazov. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 3.000 rubli. Conteneva 3.000 rubli. Che disgrazia, eccellenza, che disgrazia. Io ho paura, ho tanta paura. Gregorio, dove hanno portato il mio povero marito? Vostro marito è fuori pericolo, non lamentatevi. I medici hanno assicurato che la ferita alla testa non è grave. Ha perso molto sangue, questo sì. Vorremmo dare un'occhiata al malato. Certo, eccellenza, è di qua, nel suo stanzino. Sono passati più di due giorni oramai e continua a dibattersi ancora. Non aveva mai fatto così. non conosce. Io gli vado vicino, gli parlo. Lui spalanca gli occhi, ma non sente. Che pena, eccellenza, un ragazzo così giovane. Il dottore ha detto che se continua così, più di dieci attacchi. Non arriverà domani. Quando l'ha visto il medico l'ultima volta? Anche stanotte, eccellenza, quando è stato chiamato per Gregori. Ha dato un'occhiata anche a Smerdiakov, ma... Bisogna avvertire il nostro medico legale che venga a vederlo. Abbiamo bisogno di un rapporto ufficiale sulle vere condizioni dell'infermo. E dove sarà entrato? Ecco di là, dal muretto. Andiamo a vedere. Sì, sì. Voi dunque affermate di essere innocente della morte di vostro padre. Sono innocente. Ho versato altro sangue, ve l'ho detto, quello di Gregori, ma non quello di mio padre. Dimitri Caramazzo, vi parlerò francamente. Non dovete affliggervi per la sorte del servo Gregori, non lo avete ucciso. È vivo. È vivo? È vivo. Signore, ti ringrazio del grande miracolo che hai fatto per me, peccatore e malfattore. Hai esaudito la mia preghiera. Sì, perché io ho pregato tutta la notte per la vita di Gregori. Però devo avvertirvi che quello stesso Gregori ha rilasciato una deposizione molto, sì, molto dura per voi. Non importa di questo. Forse ha ragione Gregori. Signori, vi spiegherò tutto. Adesso lasciatemi andare da lei, da Gruscielka. Lasciate che le dica che non sono più un assassino. Fermatevi. Non muovetevi. Ora non potete assolutamente. L'interrogatorio deve continuare. È vero che non amavate affatto a vostro padre. Anzi, eravate con lui in continua lite? È verissimo. E non l'ho ucciso, no. Ma più di una volta ho pensato di ucciderlo. E quali erano i motivi di questo odio che vi spingeva quasi a volerlo uccidere. Almeno a parole. Di mio... Padre, non mi piaceva l'aspetto. L'avanteria. Il disprezzo che aveva per ogni cosa sacra. La buffoneria. La miscredenza. E un non so che... Di poco onesto che era sempre presente in lui... Mi dava la nausea. Adesso che è morto, però... Rimpiango d'averlo odiato tanto. Ora provate rimorso? Rimorso? No. Rimorso no. Solo che adesso mi rendo conto che forse... Io non avevo il diritto di trovarlo tanto repugnante. Capisco. Ma oltre a questa impressione, diciamo, di repugnanza complessiva, e c'era qualche ragione particolare che vi spingeva ad odiare vostro padre? Forse la gelosia o una questione di denaro? Sì. Sì, la gelosia. E anche questione di denaro. Insidiava. Nonostante l'età e benché fosse mio padre, insidiava la mia... La mia donna. E quanta denaro mi doveva? 3.000 rubli come saldo di un'eredità che vi sarebbe spettato. Allora, se sapete tutto, perché continuate a chiedere a me? Come se non sapeste niente. I 3.000 rubli, secondo voi, vi spettavano di diritto? Erano come vostri? Ma che 3.000? Di più, di più? Forse 6.000? Forse anche 10.000? Ma io alla fine mi sarei accontentato di 3.000 rubli, l'avrei chiusa lì, ma neanche questi mi voleva riconoscere. Perché proprio di 3.000 rubli avevate urgente bisogno? Per pagare un debito. A chi? No! Questo mi riziuto di dirlo. Questo non riguarda la morte di mio padre. Riguarda la mia vita privata. Sì, insomma, si tratta di un debito d'onore. E non dirò con chi. Eggio per voi, dimitore il caramazzoso. Conoscete questa? Alla mia colombella. Questa era destinata a Grushenka. E conteneva del denaro. Proprio 3.000 rubli. Ecco. Quando l'avete vista l'ultima volta? Mai. Come mai? Se sapevate esattamente... Sapevo perché me l'aveva detto Smerdekov. Ma voi non l'avete mai visto. Mai, vi dico, me l'aveva detto Smerdekov. Peccato che sia ammalato da tre giorni. Ammalato? E tra la vita e la morte non può parlare. E questo la conoscete? Avete colpito con questo, è sporco di sangue. Dove l'avete preso? In casa di Grushenka. Perché non ne avete mai parlato? Mi sarà sfuggito. Non è una risposta. Ci sputo sopra io al pestello. Quando fuggiste da casa alla porticina del giardino era aperto o chiusa? Chiusa. Non mentite! Aperto o chiusa? Chiusa, chiusa. È stata trovata aperta? Non è possibile. Mio padre non avrebbe mai aperto. Occorreva un segnale. Voi lo conoscevate? Certo. E chi altro? Smerdekov. Lo conoscevamo. Io, Smerdekov e il cielo. Non dimenticate di scrivere il cielo. Vi consiglierei di chiederlo al cielo. Se volete sapere la verità. Posate sul tavolo tutto ciò che avete addosso. Vuotate le tasche. Tutto! Sono 836 rubli. E il resto che avete speso, dove l'avete preso? Il resto! 200 ne avete spese all'empoio, l'avete detto voi? Sì. Quanto avete perduto al gioco? 200. 300. 20 al vetturino, 10 ne avete resa per coti. Sì, sì, sì. Avete speso almeno 1500 rubli. Dove l'avevate preso? Dove? Spogliatevi. Come spogliarmi? Frugatemi se volete. No, dovete svestirvi. Devo togliermi anche... Devo togliermi anche la camicia. Certamente. Anche la camicia. Cos'è questo sangue? Il sangue? Perché avete rivoltato il polsino? Toglietevela subito. È molto importante come corpo del reato. Importantissimo. Dovrò restare... Così... Nudo. Portate subito un lenzuolo. Presto! Dobbiamo esaminare tutto. Ma perché? Anche le scarpe. Le calze. Tutto vi ho detto. Posso almeno andare... Dietro la tenda? Sì? Andate. Così svestito. Mi sento quasi colpibile. Perché se tutti sono svestiti... Non ci si vergogna. Ma se uno solo... È svestito. E tutti lo guardano. L'ho capito bene. Voi l'avete fatto per rendermi più docile nelle vostre mani. Ma pensavo che questa umiliazione... Mi sarebbe stata rispermiata. Invece... Ma non riuscirete a farmi confessare quello che non ho commesso. Io non l'ho ucciso mio padre! Non l'ho ucciso! E allora provateci dove avete preso il denaro che avete speso. Quel denaro era mio. No, no. Insomma, non proprio mio. Diciamo pure che era stato rubato. A chi? No. No. Non a mio padre. A chi? Avevo quel denaro con me da oltre un mese, capite? Non è vero. Ieri mattina non avevate neanche un rublo. Invece l'avevo su di me. L'avevo con me. Ma non volevo toccarlo. L'avevo sul mio petto. Lo tenevo in un sacchetto. Ormai era ridotto uno straggio. Ve lo portavo addosso. Come si porta la propria vergogna. Non so se capite. A chi avevate preso? Ho rubato la parola vostra? Quel denaro? A chi? A Katierina Ivanovna. Katierina Ivanovna. Katierina Ivanovna. La mia ex fidanzata. Oh, finalmente. Se ringrazio il Dio. Vieni. Togliti il capoto che qui fa caldo. Come mai hai tardato tanto? Eh? Sei stato da lui? No. Io non vedevo l'ora di vederti per sapere. Tu non ci sei stato. Oggi quando sono andato a trovarlo, Dimitri mi ha fatto una scenata. Anche oggi? Sì. Come mai? Geloso. È sempre più geloso. Io non so cosa gli passi per la mente stando lì dentro. Ti ama. Ti ama molto. Mi ama male. Ecco. Ma che vuol dire mi ama male? Si ama in un solo modo. Sono due mesi, eh? Eh sì. Quasi due mesi. E non ha ancora accettato nemmeno l'idea di essere processato. E invece siamo alla vigilia. Che sarà domani il processo? Ecco quello che mi tormenta. Io sono la sola a torturarmi, capito? Nessuno ci pensa. Nessuno. Ma non è vero. Ah, io non parlo per te. E ti prego. Massimo. Io sono sicura che l'assassino è smerdiacov. Dimitri non ha ucciso, sai. Invece tutti ne sono convinti. Tutti. Persino Fenia. Persino lei. Ha deposto contro. Voglio dire. In modo tale che sembra che sia stato lui. Persino Gregori. Con quella storia del giardino. Della porta. Aperta. Chiusa. Chiusa. Aperta. Eh sì. Purtroppo la deposizione di Gregori è la più grave. E se almeno si sapesse cosa passa per la mente di Mitio. Cosa pensa di dire almeno. che l'ho chiesto, sai. Vado da lui tutti i giorni ma lo trovo sempre più strano. Parla, parla. Non riesco a capire quasi più nulla. Ieri, per esempio, di colpo mi parla di un bambino. E io dico, ma di che bambino parli? Quale bambino? Gli dico. E lui allora? Dice, fai di crucia. Io non ho ucciso mio padre ma devo ugualmente scontare. Non per la sua morte ma per quel bambino. Io devo andare in Siberia. È giusto. Mi sono messa a piangere perché parlava così bene. Allora all'improvviso mi ha abbracciata e poi mi ha fatto il segno della croce. Io non ci capisco più niente. Non ci capisco più niente. Io credo che sia Ivan però tu parlo, sai? Ma se non si vedono mai con Mitia. Mai? Sempre? Se Mitia mi ha detto che Ivan non si è mai fatto vedere. Non dovevo dirtelo ma te l'ho detto. Ivan ci va sempre. Di nascosto. Allora è stato certamente Ivan a determinare quel cambiamento. Cambiamento? Hanno un segreto. Ecco quale cambiamento. Un segreto? Sì. A me non lo dice. Lo dice Sanmino. Senti. Vai da lui. Cerca di farti dire qualcosa. E poi viene a dirmelo, ti prego. Aliosha. La mia vita è legata a lui ormai per sempre. Lo capisci? Un segreto. Ah, siete venuto anche voi, caro Madro. Come mai non vi abbiamo visto prima? Noi veniamo ogni giorno a trovare Iliusha. Come sta Iliusha? Iliusha? C'è dentro il dottore. Per questo aspettiamo qui fuori. Cosa credete che dirà il dottore? Cosa? Iliusha morirà. Ormai è certo. Saranno un paio di settimane che non si alza più dal suo letto e da quel giorno che vi morsicò la mano non è più venuto a scuola. Iliusha in questi giorni mi ha parlato molto di voi. Sarà contento di rivedervi. Ecco il dottore! Eccellenza! Eccellenza! Vi supplico, ancora un momento, ancora una parola. Vi supplico, eccellenza. Ditemi se è ancora possibile se c'è qualche speranza. Cosa posso fare io? Io non sono Dio. Oltretutto qui fa freddo. Preparatevi! Preparatevi a tutto. Mi pare di essere stato chiaro. È proprio così? Assolutamente nulla da fare. Io ho fatto quello che ho potuto. Però se voi lo potreste mandare in qualche luogo caldo si potrebbe provare in Italia. Dico provare, eh? Forse le condizioni climatiche... Cosa? In Italia avete detto? O voi avete visto le nostre condizioni, eccellenza? Purtroppo questo non è affarmi io. Forse potreste trovare una persona autorevole, influente, che ha dei mezzi. Beninteso non garantisco nulla. ma ha mali estremi, estremi rimedi. Eccellenza! Non temete, guaritore. Addio allora. Ci rivedremo in Italia. In Italia. Venite qui, vicino a me. Vieni anche tu, babbo. No, babbo. Non devi fare così. Allora, che festa è? Non c'è più gioia. Voglio dirti una cosa, babbo. E me la devi promettere. Quando non ci sarò più, prendi un altro ragazzo con te. Quello che preferisci. Chiamalo Iljusha. E amalo come hai amato me. Però, babbo, non dimenticarmi. Mai. Non dimenticarmi mai. Iljusha. Caro. Caro Iljusha. Sì, sì, sì. Ne riperleremo. Adesso però, basta. Sei tu. Vai da lei? Sì, volevo parlarle prima di domani. In questo momento non te lo consiglio. La signora è in agitazione. La trovereste ancora di più. No, no, no. Alexei, se dovete dirmi qualche cosa, restate. E anche voi, Ivan. Rimanete. Stavo ascoltando. No, io no. ho detto basta. Però se Agliosha vorrei stare qui a cantarti la ninna nanna, liberissimo. Io me ne vado. No, seguitelo Agliosha. Raggiungetelo. Non lasciatelo da solo. Sono giorni e giorni che impreda un'incredibile gettazione nervosa. Mi raccomando, Agliosha. Ivan, si può sapere che vuoi? Ti ha detto che potrei fare delle pazzie. Lo so a memoria questo ritornello. La pazza è lei, non io. Tu non sei pazzo, Ivan. Però sei malato. Senti, se vuoi parlare parliamo pure. Però cambia argomento. So io come sto e basta. Intesi? Starà pregando la signorina Caterina Evanovna. Pregherà tutta la notte alla gran madre di Dio perché le suggerisca come comportarsi domani in tribunale. Perché lei ancora non lo sa. Non ha ancora deciso che cosa dire del suo ex fidanzato Dimitri Fiotrovic Caramazzo. Accusato di parricidio. Caterina, ti vuol bene. Peccato. Può darsi che io non voglia più so penne di lei. E allora perché lei ludi? Eh? Ma sì, con la tua presenza, con le tue premure, con le tue continue visite le dai la speranza che... Non posso fare come vorrei, capisci? Rompere e dirglielo francamente. Non posso. Devo aspettare che Mitia venga giudicato. Se io me ne andassi prima lei per vendetta potrebbe perderlo perché l'odia e ha in mano una prova che potrebbe rovinarlo. Se invece le resto vicino lei farà e dirà quello che voglio io. E tu lo sai che dopo tutto io voglio salvare il mio fratello. In che modo? Affari miei. Eh? Affari miei ti dico. E lasciami in pace anche tu. Sarebbe questo il segreto. Ho capito. Voglio farlo espatriare. Se la sentenza, come suppongo, non sarà favorevole a Mitia. Vuoi farlo fuggire? Come? Dove vuoi mandarlo? In America. Ci vuole soltanto denaro. Diecimila rubri per fuggire e ventimila per stabilirsi là. E li darò io. E che si leve dai piedi una buona volta. Perché devi fuggire? Sei innocente. Mitia non ha ucciso nostro padre. Ah no? E chi l'ha ucciso allora? Lo sai bene anche tu. Non crederei mica alla favore dell'epilettico. Non crederai che sia stato quell'idiota di Smerdiakov. Non è degno della tua intelligenza. non ci tengo all'intelligenza. Ti dico solo che tu sai bene chi è l'assassino. E chi? Chi parla? Io so una cosa. Che Mitia non ha ucciso. E che l'assassino non sei nemmeno tu. Io? Ma dico, sei impazzito? A che centro io? Io ero a Mosca il giorno del delitto. A Mosca! Eppure in questi due mesi da quando sei stato richiamato a casa e hai saputo quante volte ti sei detto che l'assassino infonde eri tu perché tu eri il primo responsabile. Allora io voglio assicurarti oggi, qui che tu non devi sentirti in colpa. Dio mi ha mandato da te. Senti, fratello. Io detesto i profeti, gli epilettici e soprattutto gli inviati di Dio quindi tieni per te i tuoi messaggi divini. E se proprio non puoi rinunciare a fare prediche non venire a cercarmi. Basta! Tu non puoi credere a Mosca come si sia radicata in me la gioia di vivere proprio restando chiuso fra queste mura. Ma non è per sfuggire la sofferenza, no? No, anzi nei primi tempi sì ne avevo paura non volevo soffrire ma adesso non voglio nemmeno sottrarmi alla punizione anche se la trovassi ingiusta. Anzi ho deciso che domani in tribunale non risponderò nemmeno è meglio tacere. il fratello Ivan il fratello Ivan il fratello Ivan tace nasconde le sue idee con cura gelosa perché? perché tu Ivan mi disprezzi e mi disprezzi perché sei persuaso che io sia colpevole. Non è per questo che mi hai proposto di fuggire? Senti domani comincia il processo l'avvocato Petiukovic farà del suo meglio per cavarti di qui è questo quello che conta no? E allora andiamo a Liocia tardi. No Liocia aspetta un momento per carità dimmi la verità come davanti a Dio credi che io abbia ucciso o no? Mitia neppure per un momento ho creduto che tu sia l'assassino mai grazie finora ho avuto paura di domandartelo ora va va pure tu a Liocia mi hai dato la forza per domani che Dio ti benedica e ama Ivan amalo ha bisogno del tuo amore hai detto per consolarlo o credi davvero che sia innocente? rispondi Agliocia Dimitri è innocente sono certo Pavel Fiodrovic il signor Ivan Karamazov è qui vi vuol vedere andate pure vi ha tanto aspettato ma dopo la visita in ospedale e quella di oltre un mese fa qui non vi siete più fatto vivo è molto depresso non fatelo stancare io sono di qua se avete bisogno di qualcosa chiamate pure avete aspettato proprio l'ultimo giorno per tornare come mi avevate promesso sei malato sul serio? o è una finta anche questa? te! perché mi guardi e non parli? anche voi avete l'aria malata avete fatto un viso disfatto affilato lascia stare la mia salute parla questa volta non uscirò di qui senza che tu mi abbia risposto su tutto io non ho nulla da rispondervi perché vi inquietate tanto? forse perché domani comincia il processo rassicuratevi una buona volta Ivan Fiotrovic non vi succederà nulla perché? cosa dovrebbe succedermi? non ti capisco! non mi capite ma è possibile che un uomo intelligente come voi recita ancora una commedia simile io non deporrò contro di voi non ci sono prove ma guardate come vi tremmano le mani Ivan Fiotrovic andate a casa non lo avete ucciso voi siamo qui a quattro occhi no? noi due soli sappiamo bene com'è andata o volete rovesciare addosso tutto a me solo? no eh? voi avete ucciso voi siete il principale assassino io non sono stato che il vostro fedele servitore voi avete ordinato io agito siamo d'accordo e finiamola qui agito allora l'hai ucciso tu? ma è possibile che voi non l'avete ancora capito? no no io non sapevo io ho sempre creduto che fosse stato Dimitri oh frate fratello mio tu menti dicendo di averlo ucciso l'hai ucciso da solo senza mio fratello con lui l'ho ucciso con voi solamente con voi Dimitri Fiotrovic è innocente tu menti serpente velenoso aspettate aspettate e vedrete ecco vogliate dare un'occhiata a Ivan Fiotrovic? non tremate sono tutti qui 3.000 rubli tutti contateli pure allora avevate tanta bandanza eh? tutto ha permesso dicevate e ora ora che spavento guarda che spavento come hai fatto? parla di tutto come hai fatto? nel modo più naturale come voi mi avevate detto lascia stare quello che te l'ho detto io racconta perfino per segno quello che hai fatto tu i particolari soprattutto i particolari voi partiste quella mattina e io allora ruzzolai nella cantina ero stato preso da un attacco vero? lo simulare si capisce? simulai simulai tutto scesi tranquillamente fino in fondo alla scala mi stesi per terra e cominciai a urlare mi dibattevo come un ossesso quando mi portarono fuori hai simulato sempre e anche quanti dottori sono venuti a visitarti eh no eh no niente affatto il giorno dopo al mattino prima ancora che mi portessero in ospedale fui colpito da un vero attacco e così forte che non ne avevo mai avuto in questi ultimi anni continuo continuo ti portarono su dalla cantina poi? eh mi misero dietro il tramezzo su quella branda come facevano sempre quando mi ammalavo Marfa è stata sempre buona con me e voleva avermi sotto mano per potermi prestare qualche cura venne la notte e io io continuavo a gemere ma piano piano perché aspettavo di sentire i rumori che certamente avrebbe fatto Dimitri Fiodrovic scavalcando il muro di Cinta ma lui non sapeva che sarebbe venuto te l'aveva detto no 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 ma ero certo che sarebbe venuto come facevi a essere certo? perché era rimasto senza notizie e non avrebbe resistito doveva venire no? e venne appunto come prevedevo adesso potrei dirvi che il vero assassino è stato lui ma non voglio mentire con voi anche per farvi capire che un uomo intelligente come voi non ha capito niente stasera voglio dimostrarvi che il principale assassino siete voi voi solo mentre io pur avendo ucciso materialmente ho avuto la parte meno importante legalmente siete voi l'assassino se foste rimasta a casa invece di scappare a Mosca non sarebbe successo niente io avrei capito che voi eravate contrari e non avrei fatto niente invece partiste proprio sulla carrozza andate a capire che eravamo intesi mi diceste quel che dovevo fare me lo ordinaste avanti vai avanti continua vai avanti io sono lì coricato con le orecchie tese e tutto un tratto mi pare di sentire vostro padre chiamare poco prima Gregori si era alzato ed era uscito avevo sentito un urlo e poi silenzio e adesso chi grida invece il padrone che succede? allora mi alzo esco vedo che la finestra del padrone quella di sinistra che dà sul giardino è aperta è aperta che dà sul Guarda, se non ti ammazzo è soltanto perché voglio che tu ripeta tutto questo domani in tribunale davanti ai giudici. Tenetevelo pure, non ne ho più alcun bisogno. Prima speravo di cominciare una nuova vita a Mosca e all'estero. Ma adesso è da un pezzo che ho smesso di credere a quel che mi avete insegnato, Ivan Fiotrovich. Tutto è permesso, dicevate, e anche che un Dio infinito non esiste e perciò non c'è neppure la virtù. Invece... Adesso ti sei messo a credere anche in Dio? No, non ci credo, ma non credo neppure in voi, imbruglione. Sei tu il vero assassino. Domani li mostrerò in tribunale. A domani. Addio. A domani. Eccellenza. Ed è qui, in questo molino, che noi dovremmo amministrare la giustizia per soddisfare l'enorme morbosità del pubblico. E sta bene, celebreremo qui. Ed è qui, in questo modo. 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 Ci sono tutti? Tutti, signor Presidente. Quei giurati che hanno firmato con la croce vogliono per favore alzarsi. Piotr Sergeyevich Platonov, commerciante. Isagre Svenic, mercante. Mikhail Gorskin, contadino. Sedete pure. Siamo riuniti in quest'Aula per celebrare il processo contro l'ufficiale a riposo Dimitri Fyodorovich Karamazov, accusato di aver ucciso il proprio padre Fyodor Pavlovich. Fai entrare l'imputato. Grazie. Grazie. Domando scusa del ritardo, eccellenza. Dimitri Fyodorovich Karamazov, siete accusato di aver ucciso vostro padre Fyodor Pavlovich. Vi dichiarate innocente o colpevole? Vi riconosco colpevole. Di ogni sorta di stravizi. Ma della morte del vecchio, mio padre e mio nemico no, sono innocente. E anche del furto sono innocente. De tutto questo allora giudicherà il tribunale. Vogliamo cominciare con risolvere una questione preliminare. L'imputato, al momento dell'accaduto, possedeva interamente le proprie capacità mentali. Abbiamo qui alcuni esperti. L'illustre è il professor Majakoski. Una celebrità di Pietroburgo venuta apposta su invito dei parenti dell'imputato. Il dottor Stefan Vanvisky, scelto dal nostro tribunale. E una vecchia e cara conoscenza. Cara, penso, a tutta la città. Il nostro dottor Erzenstube. Chi sentiamo per primo? Benvenuto, professor Majakoski. Voi avrete parlato e visitato l'imputato. Che idea vi siete fatta, professore? Dico clinicamente. Giudico lo stato mentale dell'imputato anormale, al più alto grado. Anormale, avete detto scusate? Anormale, anormale. In base ai dati raccolti, ritengo che l'accusato si trovasse già da diversi giorni in uno stato ossessivo. Pregiudizievole per le sue capacità di intendere e di volere. Se qualcosa ha commesso, l'ha commesso involontariamente. Anche adesso, vedete, c'è qualcosa di abnorme nel suo contegno. Quello sguardo visso... Mi dispiace proprio di non essere d'accordo col mio illustre collega, che per esperienze e dottrina la sa certamente più lunga di me. Ma a mio parere, l'imputato si trovava, e si trova, in condizioni del tutto normali. Se, come pare, prima del suo arresto, egli si trovava in uno stato di particolare nervosismo, ciò dipendeva da motivi molto evidenti. Gerosia, collera e un uso di bevande eccitanti. Ma ciò non ha niente a che fare con la particolare ossessione psichica. E sentiamo cosa ne pensa il nostro dottore Anzestube, che conosce da molti anni l'imputato. Beh, io... io... vi dirò quello che posso. Appena... appena seppi dell'accaduto, dissi tra me... Ma guarda un po' questo povero giovane, in quale pasticcio si è cacciato. E sì, meritava una sorte migliore, perché nella sua infanzia aveva veramente buon cuore. Lo conoscevate bene, allora? Oh... quando venni qui dalla Germania, lo conobbi che era un bambinello, e correva per le strade, scalzo, e con un solo bottone nei pantaloncini... E sì... perché il padre non... non si occupava molto di lui. Io... io sentii subito pietà, e anche affetto per quel bimbo. E un giorno... eh, ricordo, sì... un giorno mi dissi... E perché non fargli un regaluccio? E così andai a comprare una libra di... di... Di? Sì, quei frutti che... eh... Quei frutti che si regalano proprio ai bambini. Mele? No, no, signor Presidente, non sono le mele. Quei frutti che si schiacciano, che... che fanno cr... crac... Le nocciole, allora. Ecco bravo, le nocciole. E io le presi e gliele regalai. E gli dissi... Stai ben attento, ragazzo mio. God, their father. E lui si mise a ridere... e ripeté... God, their father. Dio, il padre. E io... God, their son. God, their eiler geister. God, their father. Dio, il figlio. Dio, lo spirito santo. E il bambino, ridendo come... A un indovinello, eh... E pronunciando come poteva... Ripeté... God, their son. God, their eiler geister. Poi... Poi me ne andai. Qualche giorno dopo passo di lì. E il bambino li vede... Mi corre incontro e si mette a gridare... God, their father. God, their son. God, God. Aveva dimenticato... God, their eiler geister. Si era ricordato del padre e del figlio. Ma si era dimenticato... Dello spirito santo. E io te lo dissi allora... Dimitri... C'è anche lo spirito santo, sai. Ricordati di lui... Se puoi. Poi... Poi lo... Lo condussero via e... Non lo rilvidi più. Ed ecco che ora dopo... Almeno vent'anni... Eh sì. Eh sì, almeno venti. Me ne sto un giorno seduto nel mio studio... Quando all'improvviso... Senza neanche bussare... Si apre la porta... Ed entra... Un giovane ben piantato che... Non riesco assolutamente a riconoscere. Io lo guardo... Lui mi guarda... Alza il dito e un po' ridendo mi dice... God, their father. God, their son. God, their eiler geister. Sono... Sono arrivato adesso... E vengo a ringraziarvi per le noccioline che mi regalaste. Nessuno allora pensava a me... Ma voi... Me le regalaste. E allora... Mi venne in mente la... La mia giovinezza. Quanti ricordi. E vidi il povero bambinello scalzo... Che correva... Per il cortile di casa sua. Mi si rimescolò il sangue nel cuore... Si era ricordato... E mi aveva serbato riconoscenza per tanti anni. E allora... Lo... Lo abbracciai. Lo benedissi. E pianse. E tu ridevi invece... Dimitri. Ma un pochino piangevi, vero? Di la verità. Perché... Il russo... Vedete, signor Presidente... Il russo ride là... Dove si dovrebbe piangere. Ma lui piangeva anche. Io... Io lo vidi bene. Ma ora ora... Dio mio... Dio mio... Dio mio... Piango. Piango anche adesso, uomo di Dio. Noi non potremmo commuoverci. Noi non potremmo commuoverci. Ma vi ringraziamo, dottor Herzestube. E adesso i testimoni... Ci sono tutti? No. No, manca Miuskov... Che si trova a Parigi... Ma la sua deposizione è allegata all'istruttorio. La signora Katierina Ossiplovna... Ci ha scritto una dichiarazione... Anche questa allegata agli atti. Il mercante Liagavi non c'è perché è ammalato. Ecco qua il suo certificato medico. Manca ugualmente il servo Smerdiakov... La cui testimonianza sarà capitale. È stato lungamente ammalato... Ma è già dimesso dall'ospedale da più di un mese. Dunque... Avrebbe dovuto essere qui. E invece non ha nemmeno avvertito. Abbiamo però già dato le disposizioni necessarie... Perché due guardie... Vadano a cercarlo nella sua abitazione... Per condurlo qui a norma di legge. Ma ecco. Ed è tutto. Direi allora di cominciare senz'altro con le testimonianze. Mi piacerebbe sentire anzitutto il fratello. Uno dei fratelli dell'imputato. Ivan Fyodorovic. Volete accomodarvi Ivan Fyodorovic? No, il giuramento non è richiesto da voi. Perché da me no? Perché siete familiari... E la legge non lo richiede. Ah, scusate. La legge vi dà la libertà di testimoniare o di tacere. Dovete sempre però in caso di deposizione... Testimoniare secondo coscienza. Senza illudere. Noi ci aspettiamo molto da voi... Ivan Fyodorovic. Voi pur essendo un membro della famiglia Karamazov... Avete sempre mantenuto... Forse per le vostre qualità intellettuali... Una spiccata indipendenza di giudizio. Ed è su questa indipendenza che noi contiamo molto. Sono pronto, eccellenza. Voi come membro della famiglia... Eravate informato del dissidio economico che c'era tra vostro padre e vostro fratello? Sapevo che c'erano delle questioni, ma io di queste cose non mi sono mai occupato. Sapevate di una busta preparata da vostro padre e contenente 3.000 rubli? No, non l'ho mai vista. Però sì, me ne fece parola il servo Smerdiakov. Credete fosse destinata a vostro fratello come liquidazione delle sue pretese per l'eredità o a un'altra persona? Non lo so, eccellenza. Voi forse non lo crederete, ma erano tutti discorsi che io non ascoltavo nemmeno. Non potrei dirvi niente di speciale. Se loro vogliono rivolgere qualche domanda particolare al test... A un momento, signori. Il test Smerdiakov, che due agenti del tribunale erano andati a prendere a casa, come vi ho detto, l'hanno trovato impiccato. Si è suicidato. A quel cane! Una morte da cane! Taccete, per carità. L'udienza è momentaneamente sospesa. Paglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.